Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle tre parti da raccogliere per riparare l'astronave. La prima parte si trova praticamente qui, in questo isolotto qui, dove metto il punto, dove c'è l'astronave. Qui c'è l'astronave, vi girate, qui c'è un masso nell'acqua, lo distruggete e trovate la prima parte. Premetto che io inizialmente non riuscivo a trovarla, però se vi avvicinate udite un suono. Praticamente è immersa nell'acqua, la batteria tanto che non si vede. Quindi vi avvicinate qui, vedete, e la raccogliete. La seconda parte si trova lì su, vedete, senza che magari raggiungo, diciamo, la parte. Lì, qui c'è l'astronave, lì, di fronte a voi, create tipo una scala, arrivate lì e la parte la vedete, brilla, quindi non potete assolutamente sbagliarvi. L'ultima parte si trova praticamente qui. Dovete distruggere un masso e trovate l'ultimo componente. Quindi qui, da queste parti, ci sono diversi massi, vi avvicinate al masso e udite il suono. Quindi una parte si trova lì, una si trova qui e l'altra si trova vicino l'astronave. Quindi una volta che avete raccolto le parti mancanti dell'astronave dovete ovviamente installarle per poter riparare l'astronave che, vi ricordo, si trova nella parte alta di Scogliere Scoscese. Quindi vi avvicinate adesso all'astronave e installate le parti giuste. Quindi, ad esempio, la batteria al posto giusto, il propulsore e così via dicendo. Sono tre parti, quindi non potete assolutamente sbagliarvi. Ci girate attorno fino a quando non trovate dove installare la parte mancante. Quindi voilà! Così avete trovato le parti e l'avete riparata. Ora potete attivarla, come vedete. È iniziata la sequenza di lancio e avete adesso 50 secondi per arrestarla. Quindi una volta attivata partirà la sfida.